Musica Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Siamo tornati su Head Soccer Ed andiamo quindi a vedere subito come si sblocca il personaggio del Singapore Per prima cosa andate nella modalità Major League E scegliete un personaggio con il quale vi trovate meglio E che abbia un super tiro abbastanza forte Capirete poi il perchè Per sbloccare questo personaggio dovremo vincere la Major League Senza mai utilizzare il calcio Quindi non potremo mai effettuare dei contraattacchi E proprio per questo ci serve un personaggio che abbia un super tiro molto forte In modo tale da sopperire a questa mancanza Qui avete visto velocemente tutte le vittorie che ho fatto durante questa Major League E siamo arrivati ora alla finale Questo personaggio come molti altri ha due super tiri Uno quando si trova in aria ed uno quando si trova sul terreno Come potete vedere il pallino con il calcio è ancora acceso Ciò significa che non abbiamo mai usato il kick in tutta questa Major League Siamo adesso sul risultato di 4-3 e mancano 7 secondi praticamente alla fine Siamo riusciti adesso ad andare in vantaggio di 2 gol Il super tiro dell'India ragazzi è veramente molto molto forte Perchè sia quando tira da, diciamo in volo, sia quando tira da per terra Riesce a dar fastidio al nostro avversario di indebolirlo e infastidirlo soprattutto Come potete vedere qui siamo andati a vincere Ed abbiamo sbloccato il personaggio del Singapore È un personaggio abbastanza forte Come detto ha due super tiri Anche se non è uno dei personaggi che preferisco Ma è comunque abbastanza carino da utilizzare ogni tanto Io spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto Se così è stato lasciate un like se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Ci vediamo presto con altri personaggi di Head Soccer Tempo permettendo Un saluto da Libano e dallo staff di FoodItalia Channel Bella Ciao 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 Ciao